Allora, Paolo Mieli... Su una cosa, fammi dire che Montanari ha ragione. La boccia, come abbiamo visto, circolava nel palazzo... Dal 21, insomma, non era una che è arrivata insieme al... L'hanno vista arrivare, tutti, tranne San Giuliano, evidentemente, nel senso che poi qualcuno l'ha schivata e qualcuno... Tu lo dici per scherzo, ma è esattamente così. Tutti l'hanno vista arrivare e a un certo punto uno ha boccato... C'è rimasto un po' in mezzo. Però credo, a, che non sia l'unico personaggio di questo tipo che circola intorno alla politica, b, che si scopre dentro questo caso che questi strani personaggi, le nomine, tutta gente sconosciuta, in gran parte gente che noi non conosciamo, oppure gestori di autonoleggi che vengono nominati in istituzione culturale, formano un ceto, un ceto, e su questo stavo dando ragione a Tommaso Montanari, è un ceto che cerca di sopravvivere. L'impressione che ho io è che dietro questa storia qua ci sia una bagarre dentro questo ceto qui, nomine annunciate, nomine sbagliate. Ho visto, per esempio, che San Giuliano, prima di andarsene, ha fatto un'altra raffica di no. I due di destra si sono immediatamente dimestri, hanno detto, per carità di Dio, non vogliamo saperne. Come se, e per questo risalgo a quella dichiarazione di Veneziani che mi aveva colpito, colpito qualcuno, fra cui noi tre, ha capito che lì va voltata pagina in modo energico, non mettendo i propri al posto di quelli che c'erano prima. E tu credi che Maria Rosaria Boccia conosca dei segreti che possano andare al cuore di queste vicende, avendo registrato le chat, forse, i messaggi del Ministro? Qualcosa, qualcosa sì, ma non delle cose decisive. Ecco, faccio una scommessa pubblica, penso che questa storia magari rilascerà altre novità su cui noi torneremo sui giornali, ma non quella esplosiva. Il botto grosso l'ha fatto provocando le dimissioni di San Giuliano. Allora, professor Montanari... Io penso che non fosse neanche... Io credo a lei quando dice che non era l'amante di San Giuliano, che non c'era un rapporto. Penso che è tutta fuffa, tutta una cosa montata e che dietro ci siano questioni di nomine, fra cui lei si è incavolata per la sua. E si è giustamente incavolata per la sua perché a lei è stata fatta una nomina e poi revocata... È stata ritirata, non si capisce bene. Ma insomma, quello... Sì, una nomina gratuita, tra l'altro, cosa strana. Sì, ma lì non è... Eh vabbè, ho capito, però perché questa idea che si lavori gratis è anche sbagliata, perché dà l'idea che ci sia, ne parlavamo anche ieri... Ma soprattutto i lavori vanno retribuiti, anche quel tipo di lavoro. Sennò c'è un elemento di ambiguità in tutto questo. Eh no, è che è il potere la retribuzione. Eh vabbè. Cioè tu vieni nominato e attraverso quella nomina, non dico in questo caso, nomini altri, costruisci una rete di relazioni, di potere, e questa cosa si incrosta... La società di corta. Eh beh, e questo si incrosta e resta, capisci? Per cui è rimasta vittima, Giorgio Meloni, sua sorella, il ministro San Giuliano, di una cosa che loro non hanno capito bene, non padroneggiano, pensano con supponenza di conoscerla, invece devono fidarsi di qualcuno che la conosce meglio di loro. Eh, professor Montanelli,